Perché dovrei prendere consigli di marketing musicale da te che hai solo 2700 ascoltatori mensili? Oggi rispondiamo a questo commento degli haters che è uno dei più ricorrenti e anche uno dei più apparentemente sensati perché la logica è come fai tu a insegnarmi una cosa che non hai fatto e infatti mi hanno scritto è come prendere, farsi dare una dieta da un dietologo grasso e così via quindi voglio rispondere perché apparentemente ha senso ma in realtà non tanto e in questo video ti darò 7 motivi per cui invece a mio parere dovresti ascoltarmi poi vedi tu Innanzitutto mi presento, ciao guerrieri, io mi chiamo Red Sky, sono musicista e ho anche un'agenzia di marketing per musicisti che si chiama Ronin Academy con cui insegniamo agli artisti a creare la propria fanbase di VeryFan dedicando a questa attività solo 5 minuti al giorno Se vuoi saperne di più e iniziare a imparare anche qualcosina tipo come aumentare i tuoi ascolti ti lascio un mini corso gratuito qui in descrizione che in un'oretta ti spiega un bel po' di cose Detto questo, cominciamo Allora, perché dovresti prendere consigli da me che ho solo 2700 ascoltatori mensili? Allora, il primo motivo è che tu non hai neanche quelli Quindi, se tu ne hai di più, probabilmente sarò io che verrò da te e ti chiederò consiglio Ma se tu ne hai di meno, se tu hai 10 ascoltatori mensili e io ne ho 2700 evidentemente qualcosina in più di te ho capito qualcosina in più so fare rispetto a te per quanto riguarda il marketing Non credi? Quindi il primo motivo è questo Secondo motivo, devi sapere che il 70% dei musicisti nel mondo il 70% non ha nemmeno 1000 ascoltatori mensili Questo vuol dire che, avendone io 2700 rientro nel 30% dei musicisti underground del mondo Quindi considera che su 10 musicisti 7 non arrivano neanche a 1000 Io ne ho 2700, quindi confermo quello che dicevo prima Evidentemente qualcosa in più del 70% dei musicisti italiani mondiali ho capito, quindi qualcosina da imparare forse c'è E questo ci conduce anche al punto numero 3 che è ancora più importante poi adesso arrivano quelli belli Il 70% dei musicisti nel mondo in un anno fa meno di 1000 streaming Quindi vuol dire che non arriva neanche a 1000 ascolti Io nell'ultimo anno ne ho fatti 105.000 Quindi ancora una volta evidentemente rientro nel 30% dei musicisti mondiali e vai a vedere quanti ascolti hai fatto tu nell'ultimo anno poi confrontali con i miei e vedi se è il caso di ascoltare quello che dico o se è meglio insultare In ogni caso questi tre punti quindi il fatto che tu non hai neanche quelli e che il 70% non arriva neanche ai 1000 ascoltatori mensili neanche ai 1000 streams mensili anzi annuali rientra tutto in una falsa credenza del fare il confronto tra me e i super VIP Ma io non ti sto promettendo di farti arrivare a milioni di ascoltatori Io ti sto promettendo di portarti dallo zero assoluto in cui probabilmente sei adesso a uno step decente di professionalità Quindi io ne ho 2700 ti porto da zero ai 2700 Poi dopo sarà un altro discorso non è che ti sto promettendo di portarti ai livelli dei Metallica Quindi è inutile che fai il confronto tra me e Metallica dovessi fare il confronto tra te e me o tra me e tutti gli altri emergenti Perché se fai il confronto tra me e tutti gli altri emergenti di Italia o del mondo vedrai insomma che non sono in molti a fare questi numeri Punto numero 4 Per chiudere questa macro argomentazione Io faccio un genere sperimentale E ho cambiato tantissime volte Ho fatto una ventina di dischi se non sbaglio non mi ricordo manco più Ogni volta cambiavo genere praticamente E in ogni caso quello che faccio è molto strano perché unisco il metal, il rap, l'elettronica Quindi ogni volta che si tratti di concerti che si tratti di recensioni per i metallari sei troppo rap per i rapper sei troppo metallaro e così via In più canto in italiano e in giapponese Quindi se io faccio questi numeri con questo genere che è un casino è un miracolo Se facessi trap se facessi indie se facessi pop se facessi rap tradizionale se facessi metal tradizionale ne farei probabilmente dieci volte tanti Quindi non guardare solo il numero guardalo in relazione innanzitutto agli altri emergenti o underground d'Italia e poi guardalo in relazione a chi fa musica sperimentale perché chi fa musica sperimentale di solito fa tre views se gli va bene quindi ancora una volta quando ci riuscirai tu poi vedremo Arriviamo ai tre motivi più belli Allora il numero cinque che è il mio preferito è questo non vuoi prendere consigli da me che ho solo 2700 ascoltatori Perfetto Allora prendi il tuo idolo quello che a te piace che secondo te ha voce in capitolo per parlare perché lui fa milioni di ascoltatori che è il tuo paragone prova a chiedergli consiglio scrivi a lui chi ti piace Sfera e Basta in Metallica scegli tu scrivigli fammi sapere se poi ti risponde perché quello che penso che intuisco è che innanzitutto non penso ti risponderà e secondo anche se dovesse risponderti cosa che comunque non accadrà non penso che sappia bene come ci è riuscito perché io diciamo la mia vocazione il mio dharma è il fatto che oltre ad essere un musicista sono anche appassionato e quindi esperto di marketing quindi tutto quello che faccio poi lo analizzo lo studio per cui sono consapevole del perché arrivano determinati risultati e altri no non penso che se vai da Sfera e Basta chiedergli come ha fatto a fare quei numeri lui te lo sappia dire proprio con precisione ti sappia spiegare una strategia e non mi risulta che Sfera e Basta o in Metallica facciano corsi o consulenze per insegnare ai musicisti emergenti come ottenere quello che hanno ottenuto quindi io sono lo stronzo che è qui a condividerti con te quello che hai imparato sui social lo faccio gratis e nei percorsi lo faccio a pagamento ovviamente visto che è un lavoro se a te questa cosa dà fastidio e anziché approfittare del consiglio preferisci insultarmi e mi dici no io non ascolto consigli da uno che ha solo 3000 ascoltatori io voglio quello che ne fa un milione perfetto vai da quello che ne fa un milione scrivigli vedi se ti risponde e quando ti risponde vedi se fa corsi oppure no perché mi risulta che loro i corsi non li facciano quindi mi sa che ti toccherà evidentemente ascoltare i consigli da parte non dei super VIP ma di qualcuno che è un po' più in basso e che queste cose oltre a farle le studia anche e ha creato dei corsi poi se sei troppo snob diciamo per ascoltare consigli da chi ha solo 2000 ascoltatori che comunque sono 2000 volte i risultati che hai tu scrivi a sfere e basta vedi se ti risponde poi punto numero 6 allora questo esempio del dietologo sembra sensato quindi perché dovrei farmi dare una dieta da un dietologo grasso però io ti rispondo così perché dovresti allora andare da un ginecologo maschio eppure mi risulta che i ginecologi maschi esistano quindi evidentemente così come non bisogna per forza avere una vagina per fare il ginecologo o non bisogna essere andati in galera per fare l'avvocato o essere uno che scrive le leggi evidentemente per dare consigli di marketing musicale non bisogna per forza essere dei super VIP a livello mondiale e la stessa cosa vale per la finanza c'è gente che insegna finanza che sta bene a livello economico ma che non è miliardario cioè sono professioni diverse non è detto che chi performa a grandi livelli sia in grado di insegnare e viceversa Messi è uno dei più grandi calciatori del mondo se non il migliore ma non è che fa lezioni di calcio e tu se devi prendere lezioni di calcio non vai da Messi anche perché chi cazzo sei cioè c'è anche da dire questa cosa cioè si continua a fare le pulci ai miei risultati ma tu chi cazzo sei invece cioè io ne ho troppo pochi per insegnarti ma tu invece chi cazzo sei cioè tu hai due ascoltatori non hai un'identità non sai fare i contenuti è già tanto se fai musica decentemente però esigi che a insegnarti sia sfere e basta cioè chi cazzo sei quindi c'è anche da dire rimettiamo un attimo in prospettiva anche questa cosa c'è anche un po' di umiltà da parte del cliente non solo dell'insegnante per cui la cosa è il dietologo è una minchiata perché può essere il miglior dietologo del mondo e decidere di ignorare tutti i principi che comunque conosce perché preferisce mangiare o magari ha una malattia ed è obeso che cazzo ne sai non è detto che perché sia grasso non sia in grado di darti degli ottimi consigli e infatti questo ci conduce al punto numero 7 che è anche l'ultimo perché dovresti ascoltare i miei consigli se ho solo 2700 ascoltatori mensili perché si dà il caso che siamo l'agenzia di marketing musicale italiana con più risultati con più casi di successo di tutto il settore praticamente tutti gli studenti che passano da noi diventano dei casi studio il 98% ci lascia una testimonianza positiva a fine percorso e le trovi tutte sul canale youtube tra l'altro oltre che tutte le recensioni nelle storie in evidenza di instagram sul sito eccetera quindi al di là dei miei risultati che comunque ribadisco sono nel 30% dei musicisti underground del mondo e col mio genere sperimentale è un miracolo ma a parte questo al di là dei miei risultati che tu continui a confrontare con i super vip ma dovresti confrontare con gli altri musicisti underground resta il fatto che quando do dei consigli ad altri musicisti i risultati glieli faccio ottenere e glieli faccio ottenere sempre non è mai capitato che io facessi una consulenza sull'identità e non trovassi l'identità al musicista in due ore prova a parlare con qualsiasi marketer di qualsiasi settore ti dirà che è un miracolo trovare un personal brand in due ore da zero e quando i musicisti applicano i miei consigli sui contenuti crescono e infatti ogni volta a fine percorso c'è un più mille per cento se non di più di crescita quindi di che cazzo stiamo parlando per cui per riassumere perché dovresti ascoltare i consigli di marketing musicale da me che ho solo 2700 ascoltatori primo perché comunque questi 2700 sono tanti il 70% dei musicisti neanche ci arriva e con il mio genere sperimentale valgono 10 volte tanto due perché quelli famosi non ti rispondono e comunque non fanno queste cose non insegnano e comunque non vorrebbero insegnare a te in ogni caso e se lo facessero ti costerebbe 50.000 euro quindi vedi tu e tre perché sono in grado di portare risultati alle persone con cui lavoro e riguardo l'esempio del dietologo non bisogna per forza avere una vagina per fare il ginecologo bisogna aver studiato e si dà il caso che io sono 20 anni che faccio musica e 10 anni che studio e applico il marketing al mio progetto perché a differenza di molti competitor io sono tuttora un artista non è che ho smesso e quelli che continuano era meglio se smettevano quindi io un progetto ce l'ho e quello che ti sto insegnando è perché l'ho applicato prima su di me non è che lo sto dicendo perché l'ho studiato all'università quindi io ti sto condividendo quello che ho imparato e ho aperto Ronin proprio per questo perché una volta che ho imparato il marketing ho detto wow che figata sta roba funziona la devo condividere se sei troppo snob per ascoltare consigli da parte di uno che ha solo 2700 ascoltatori ah no il mio insegnante deve averne almeno 10.000 se no non può ripeto scrivi a sfere e basta fammi sapere se ti risponde fammi sapere se sei in grado da aiutarti e fammi sapere quanti soldi ti chiede detto questo spero di aver risposto a questa obiezione una volta per tutte e ci vediamo domani mattina alle 9 per il nuovo episodio del podcast e mi raccomando in descrizione c'è il mini corso gratuito dagli un'occhiata che ti aprirà la mente su molte cose ciao guerrieri grazie a tutti